Pogba e la neve atto i, sciata mimata risposta. E via la nuova raffica di critiche. Pogba e le vacanze sulla neve, nuovo episodio. Col francese che su Instagram ha risposto a chi nei giorni scorsi lo aveva accusato. Dopo un suo post con foto in occhiali d'asci su sfondo innevato, di mettere a repentaglio mesi di terapia e convalescenza con una vacanza sulla neve in sé per sé rischiosa. E senza aver ancora disputato un solo minuto in campo con la maglia bianconera. La reazione del polpo non si è fatta attendere, su Instagram il francese ha postato un video che lo ritrae mentre mima un'assata peraltro con stile discutibile. Una presa in giro per chi nei giorni scorsi lo ha criticato per le sue vacanze sulla neve. Un post che ha naturalmente scatenato risposte polemiche ed altre critiche, persino una lettera che inizia con Derpole pazientemente gli spiega. In inglese, che il problema non sta nello sci ma nel fatto che siccome non hai giocato un solo minuto in questo campionato. Anche per la tua decisione di rimandare l'intervento, forse avresti potuto evitare qualche foto del tuo relax. Punto pensaci. Un accorato appello, che chissà se Pogba accoglierà. Un accorato appello, che chissà se Pogba accoglierà. Un accorato appello, che chissà se Pogba accoglierà.